Allora, ci tengo soltanto a fare una precisazione rispetto a quell'articolo di Repubblica che vi ho messo sui parassiti, ok? Mi state scrivendo in tanti, è sconvolgente, no, ma non ci credo, ma davvero, oddio, perché so che notizie di questo tipo, siccome non vengono date molto spesso, destano sgomento, sorpresa, un po' di schifo, diciamocelo pure, però purtroppo quello che non è veicolato nella maniera corretta è che è frequentissimo avere questo tipo di parassiti. Io stessa ne ho rilasciati tanti durante i detox, per quello che vi dicevo, che spesso avevo degli amichetti, perché mangiando in maniera sbagliata, inconsapevole, non equilibrata, mangiando anche cibi che ne contengono magari spesso crudi come carne e pesce, purtroppo inserire questo tipo di parassiti con un'alimentazione che è sbilanciata e con alimenti che ne contengono è molto molto frequente e possono dare dei disturbi che sono sottovalutati dai semplici disagi intestinali fino al mal di testa, fino ad avere proprio anche bruxismo, pruriti, ruito del naso, sono tutta una serie, scusate, qua nel frattempo la strada è un pochino sconnessa, però sono tutti quanti disturbi che spesso vengono sottovalutati anche dagli approcci più tradizionali, pensando che le cause siano altre, invece scavando molto spesso sono generati proprio dal proliferare di questi parassiti, che quindi attraverso protocolli di pulizia mirata, detox, lavaggi intestinali, a cui io tengo molto, lo sapete, piano piano, molto lentamente riescono ad essere eliminati. Grazie.